salve amici se in passato per i lavori pesanti venivano utilizzati animali domestici e semplici macchinari con leve e argani oggi l'umanità dispone di macchine e meccanismi incredibili in grado di svolgere lavori estremamente complessi escavatori caricatori gru mobili e fisse sono familiari a tutti ma le macchine mostruose di proporzioni davvero gigantesche vengono spesso create solo in piccole quantità e non tutti possono vederle con i propri occhi in questo video imparerete a conoscere i macchinari giganti più incredibili del mondo iniziamo con il trasportatore di travi più grande del mondo l'hzy 900 che ha una capacità di sollevamento fino a 900 tonnellate questa macchina ciclopica del peso di 280 tonnellate è prodotta da un'azienda cinese ed è stata creata per trasportare travi di grandi dimensioni e intere travate di ponti per le getta punti una macchina del genere non viaggia su tutte le strade poiché la sua larghezza è di quasi 7 metri e la sua lunghezza raggiunge i 39 metri e questo senza contare le due cabine che si trovano davanti e dietro l'altezza tuttavia è limitata solo 3,4 metri questa macchina che sembra un millepiedi gigante è alimentata da due motori diesel da 563 cavalli situati nella parte posteriore i motori generano elettricità che viene poi trasmessa a 32 paia di ruote disposte su 16 file per entrambi i lati del veicolo in totale quindi questo trasportatore di travi a 64 ruote ogni coppia può girare in modo indipendente quindi la macchina si guida abbastanza facilmente anche se bisogna tenere conto che il suo raggio di sterzata è di circa 38 metri questo trasportatore di travi è stato creato per trasportare travi e capriate di ponti con una lunghezza di 20 24 e 32 metri e un peso fino a 900 tonnellate senza carico una macchina di questo tipo può raggiungere una velocità di 12 chilometri orari a pieno carico 5 chilometri orari questo macchinario ama le strade piatte la pendenza non deve essere superiore a 5 gradi inoltre l'hz y 900 deve muoversi su strade asciutte con una superficie dura come asfalto cemento o terreno densamente compattato senza tracce di olio o altri liquidi che possono causare lo slittamento delle ruote in sintesi non è un fuoristrada ma se la cava abbastanza bene per i compiti per cui è stato progettato il veicolo getta ponte slj 932 un'impressionante meraviglia di ingegneria progettata per sollevare e installare massicce travi e sezioni di punti è stato sviluppato dalla angiang heavy industries e costruita dalla wow joint machinery company serviva per costruire ponti ferroviari lungo la strada di 1700 chilometri che porta alla mongolia da pechino i ponti su questa strada dovevano avere campate lunghe e il tempo per costruirli era limitato i cinesi hanno realizzato questa macchina per questo scopo un enorme miracolo della tecnologia cinese lungo più di 90 metri alto 9 e largo 7,4 essenzialmente è una grande gru con due trattori alle estremità le travi scorrevoli sostengono le campate di cemento e quando si muovono si assistono a vicenda la massa del gigante è 580 tonnellate può lavorare con strutture in calcestruzzo che pesano fino a 900 tonnellate a quattro segmenti separati di 16 ruote che ruotano di 90 gradi si muove a 8 chilometri all'ora senza carico e 5 a pieno carico sembra strano ma è una macchina abbastanza manovrabile negli ultimi anni i veicoli getta ponti sono diventati sempre più popolari ma inizialmente venivano creati per la costruzione di oggetti specifici cioè la struttura stessa veniva realizzata in base alle dimensioni e alla larghezza delle campate al raggio di curvatura e ad altre caratteristiche e talvolta erano necessari più veicoli getta ponti per lo stesso oggetto in seguito gli ingegneri hanno fatto sì che un singolo veicolo getta ponte potesse trasformarsi l'SLJ 932 è stato sviluppato all'inizio del 2011 e da allora è stato usato con successo in vari progetti di costruzione in tutto il mondo ha dimostrato la sua efficacia nel corso degli anni detentrice di un record del guinness dei primati la gru sk 3500 d è il macchinario più efficace per la demolizione di grattacieli all'estremità del braccio sono presenti enormi tronchesi in grado di smantellare la struttura portante di un edificio a un'altezza di 65 metri la gru da demolizione può sollevare 200 tonnellate e ne pesa circa 328 il braccio composto da tre guide è dotato di una morsa per il fissaggio di accessori per il taglio e la frantumazione per ridurre al minimo la diffusione della polvere all'estremità del braccio è presente un nebulizzatore d'acqua inoltre sui bracci sono installate videocamere in modo che l'operatore possa monitorare il processo di demolizione le gru moderne sono diventate parte integrante dei progetti edilizie infrastrutturali garantendo lo spostamento efficiente di carichi pesanti nei cantieri esistono molti modelli impressionanti di gru semoventi in tutto il mondo ma la liber lr 13000 è l'incarnazione dell'eccellenza ingegneristica ha una capacità di sollevamento di 3000 tonnellate e un'altezza massima di sollevamento di 236 metri questo gigante viene usato principalmente per la costruzione di centrali elettriche in questi casi infatti è costantemente richiesto il sollevamento di pesi estremi viene usato anche nelle raffinerie di petrolio dove bisogna installare colonne industriali del peso di 1500 tonnellate e lunghe 100 metri ciascuna gru di questo modello costa circa 27 milioni di dollari e tutti e cinque gli esemplari esistenti lavorano senza interruzione una gru cingolata di dimensioni così enormi non può essere trasportata sul luogo di lavoro con le proprie forze poiché raggiunge una velocità di appena 1,5 chilometri orari la gru viene quindi smantellata in tante parti da 70 tonnellate che vengono trasportate via mare dove necessario e riassemblata sul posto la facilità di montaggio è un grande motivo di vanto per gli sviluppatori inoltre la lr 13000 è l'unica tra le gru cingolate della sua categoria che può funzionare senza un carico aggiuntivo speciale per garantire stabilità ciò è possibile grazie a un anello girevole in grado di sopportare carichi molto elevati sviluppato appositamente dagli ingegneri della liber anche il nostro prossimo eroe è una gru ma vola vi presentiamo la gru volante sicorsky s64 un gigante lungo 27 metri in grado di sollevare enormi carichi in aria diamo uno sguardo l'elicottero simile a una libellula ha caratteristiche impressionanti una capacità di sollevamento massima di 10 tonnellate con un peso di appena 9 un'elevata manovrabilità e una velocità di salita di circa 7 metri al secondo tutto ciò lo rende un vero campione nella sua categoria il primo volo di questa gru volante equipaggiata con due motori a turbina a gas pratt whitney da 4500 cavalli ciascuno fu effettuato nel 1962 l'elicottero è stato originariamente progettato per l'esercito americano ed è dotato di un carrello di atterraggio alto a tre montanti con sostegno anteriore la particolare struttura dei sostegni ammortizzanti consente all'elicottero di sedersi a 20 centimetri sul carico per poterlo successivamente agganciare la sua struttura consente di installare o meglio appendere sull'elicottero vari tipi di piattaforme cabine per il trasporto merci e passeggeri carichi di grandi dimensioni container e altro la gru volante è adatta anche per il trasporto di merci con un'imbracatura esterna un ponte argano idraulico consente di sollevare i carichi in bilico senza necessità di atterrare oltre ai due normali sedili del pilota l'elicottero è dotato di un ulteriore sedile rivolto all'indietro per il monitoraggio e il controllo dei processi di carico e scarico tutte queste qualità e la grande affidabilità hanno permesso alla gru volante di passare all'uso civile all'inizio degli anni 90 da allora questi velivoli sono stati usati per trasportare diversi tipi di carichi pesanti anche il legname da zone montuose difficili da raggiungere e sono stati usati nella lotta contro gli incendi boschivi la versione antincendio è equipaggiata con un serbatoio con una capacità di 10.000 litri si è comportato così bene nel domare gli incendi che è stato impiegato non solo negli stati uniti ma anche in grecia italia e australia il ponte trasportatore f60 è un vero e proprio gigante terrestre il macchinario viene usato per l'estrazione e il trasporto di rocce e minerali dal sito di scavo ai veicoli da trasporto è lungo 500 metri e pesa 365 mila tonnellate più dell'empire state building e della torre eiffel la velocità massima del gigante è di 13 metri al minuto e la velocità operativa è leggermente inferiore 9 metri al minuto il più grande ponte trasportatore è stato creato nel 1991 dopo 13 mesi di attività nella miniera di kletwitz nord in germania i lavori sono stati interrotti e il bagger 288 è un semovente enorme che con l'ausilio di 12 cingoli larghi 3,8 metri si muove lungo le strade a una velocità di 600 metri all'ora il dispositivo viene usato per scavare trincee e forare rocce il macchinario ha un'enorme produttività di 10.000 metri cubi all'ora il bagger 288 è lungo 240 metri e alto 96 prima del bagger 293 il macchinario era il più grande semovente del mondo con un peso di 13.500 tonnellate e ben 18 benne giganti disposte su una piattaforma circolare rotante l'escavatore è così grande che può essere manovrato da un equipaggio di quattro persone il bulldozer komatsu d 575a è un'enorme macchina da costruzione progettata e prodotta da un'azienda giapponese questo trattore viene prodotto dal 1989 e supera tutti i suoi concorrenti sia in potenza raggiunge 1150 cavalli che in peso 152 tonnellate la capacità di sollevamento del komatsu d 575a gli consente di sollevare spostare terreno e materiali con un peso da 90 a 160 tonnellate i suoi enormi cingoli offrono una buona trazione e consentono di manovrare in condizioni diverse è lungo circa 12 metri ma ciò che colpisce di più è il gigantesco volume di scarico di 96 metri cubi il bulldozer è un motivo di vanto per gli ingegneri giapponesi la sua lama larga 7,4 metri e alta 3,6 è capace di scavare nel terreno fino a una profondità di 805 millimetri in una sola volta spesso questo gigante viene usato nell'industria mineraria ma può essere impiegato anche per la costruzione di strade questo bulldozer è in grado di affrontare vari compiti accessori appositi ne consentono l'adattamento ad esempio per zappare il terreno creare trincee livellare superfici o anche sollevare e spostare materiali ingombranti il komatsu d 575a rimane uno dei principali attori nel mondo dei macchinari edili pesanti questo invece è il famoso crawler transporter merion un trasportatore cingolato progettato per trasportare razzi e dispositivi per il volo spaziale alle piattaforme di lancio del centro spaziale della nasa in florida è stato progettato e costruito dalla società americana transporter merion il primo esemplare fu completato nel novembre del 1964 e furono costruiti un totale di due trasportatori cingolati che costarono 14 milioni di dollari ai prezzi degli anni sessanta molti hanno già visto di cosa è capace questa macchina ma le immagini di quando è all'opera non smettono di stupire i trasportatori merion a otto cingoli hanno una piattaforma di trasporto lunga 40 metri larga 34,5 e alta 12 inizialmente furono creati per trasportare il razzo saturn 5 sulla piattaforma di lancio del cosmodromo il peso totale del trasportatore con la piattaforma e il missile installato su di esso era di 8.165 tonnellate in seguito furono usati per trasportare le navicelle spaziali ai siti di lancio il merion trasporta la navicella spaziale o i razzi pesanti su un enorme piattaforma di lancio mobile da cui verrà anche lanciato il sistema spaziale il peso di questa piattaforma è di 4.190 tonnellate il peso della navicella spaziale con la sezione centrale vuota e due acceleratori è di 1.300 tonnellate in totale il trasportatore trascina sulla schiena 5.500 tonnellate più il peso del macchinario stesso che è di 2.500 tonnellate il trasportatore è completamente autonomo usa una trasmissione diesel elettrica due generatori diesel navali generano elettricità per 16 motori elettrici di trazione che azionano i cingoli di questo gigante sul sito di lancio il merion solleva di diversi metri la piattaforma con il razzo dopo il posizionamento dei supporti il trasportatore esce di scena dopo il lancio ritorna a prendere la piattaforma e la porta all'area di riparazione e in seguito al vehicle assembly building vi entra attraverso la porta più grande del mondo larga 130 metri per poi uscire da lì con un nuovo carico cosmico sulle spalle con questo è tutto amici lasciate un like iscrivetevi al canale e attivate la campanella a presto